60, aspetta, Messi 2012 ne ha fatti 91, hai capito bene, regione solare E' lì che ho iniziato a guardare il Barcellona Primo gennaio, 31 dicembre 2012, anno solare, capito quando ti dico Messi è una roba diversa Lui spiega che tecnicamente qualsiasi essere umano in controtempo avrebbe dovuto appoggiare il piede due volte Lui... L'ho fatto con una volta sola No, neanche una, neanche una, cioè il tipo fa una roba che non ha... Non so perché mi sono... Come un calabrone, no, che non sa, che non ha la struttura... Sì, 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 il calabrone si dice, o del bombo, il calabrone Il calabrone Che non ha la struttura per volare propriamente, ma lui non lo sa e vola lo stesso, è uguale per Messi